Ciao a tutti ragazzi, qui è Gnabro e oggi parleremo della vittoria del campionato provinciale Under-15 Cosenza in Calabria. Lo scala a calcio ha vinto il campionato e anche i playoff per qualificarsi ai regionali. Allora, l'ultima di campionato l'abbiamo vinta contro l'Andreoli 7-4 per noi in Casaloro. Sono stati molto sportivi, mi è piaciuto molto perché alla fine hanno anche fatto un applauso, fuochi d'artificio e basta. Poi abbiamo fatto semifinale playoff vinta 2-1 con la Mangone Calcio in casa nostra. Abbiamo vinto a Paola, al campo della Cesco Sbano e nella Paolana. 3-0 contro i Rupi di Marcellina che hanno vinto ogni semifinale contro il Mendicino 1-0 in Casaloro. E niente, poi dopo la vittoria del campionato siamo finiti sui giornali, sul quotidiano del Sud, che vi lascerò qui. E abbiamo vinto anche la finale playoff. Solo che io non ho potuto giocare dalla partita dell'Andreoli perché ero infortunato. Vabbè, tutt'ora. Però posso giocare. E niente, questo era stato tutto quello che è successo. Ora devo studiare per gli esami, perché ho l'esame di medio. E niente, questo è stato quello che ho fatto in tutta la mia pausa. Bella. Ciao a tutti.